In Piemonte piove incessantemente da giorni. Dal primo marzo ad oggi la media è di 550 mm di acqua, la metà di quanto di solito capita in 12 mesi. Non succedeva da 70 anni. Vuol dire che il problematicità è risolto? Ma in realtà il problema rimane perché questa neve che abbiamo in montagna e soprattutto la pioggia finirà in mare e non è trattenuta da nessuna opera. Meno del 10% viene oggi raccolta e tutto il resto no. E infatti dopo poche ore, temperature in rialzo, sole accecante e l'acqua sparita chissà dove. Ma se il problema è trattenere l'acqua, non basterebbe costruire degli invasi in montagna, delle dighe? Grandi invasi sono progetti complessi, costano molto, ci vogliono molti anni per attuarli, hanno anche dei problemi di consenso con le popolazioni locali. I piccoli invasi costano molto meno, è facile scavarli e non creano problemi con le popolazioni locali perché anzi arricchiscono a livello ambientale un territorio. Già perché poi nel laghetto arrivano le anatre. Tutto quello, ci puoi andare in bicicletta intorno. Andiamo a conoscere allora chi ha imparato a trattenere l'acqua. La famiglia di Giorgia leva tinche da generazioni e i laghetti per i pesci hanno salvato il suo raccolto. Esattamente, questo laghetto per noi è stata veramente una salvezza, specialmente l'anno scorso che c'era una grandissima siccità. Noi oltre a questo ne abbiamo quattro e ci hanno aiutato tantissimo per irrigare il nostro mais e le nostre verdure. Tanto le tinche non hanno bisogno di tanta acqua, no? Un po' ciascuno, diciamo che ha avuto una grande risorsa e ci ha dato grande cose. Ne servirebbero addirittura di più. Sì, esattamente. Da essere pronti per qualsiasi necessità e evenienza in cui manca l'acqua. La mancanza d'acqua per il Piemonte è una novità. In tutta la provincia di Torino c'è solo un invaso condiviso per l'agricoltura. Serve 50 aziende, tra cui quella di Fabio. Sì, per fortuna con le ultime piogge è salito di quasi 3 metri, ma fino a un mese fa era ai livelli minimi. Adesso con questo volume d'acqua qua potremmo arrivare tranquillamente fino a fine stagione. Anche se non piovesse più, voi sareste a posto? Ma non tutti, come ad esempio nella mia azienda ci sono una parte di terreni che si riescono a irrigare e una parte no. Quindi sarebbe importante realizzare altri invasi che vanno a coprire tutti i terreni del territorio.